La rivolta dei commercianti. A Vicenza la campagna elettorale accende la ribellione delle vitrine del centro storico. I negozianti, alla resa dei conti con la vecchia amministrazione che li ha dimenticati, chiedono al prossimo sindaco di ripopolare il cuore della città. Ripopolarlo come? Riempendo quei buchi vuoti, neri, orrendi che ci sono nel centro storico. Tra i buchi c'è sicuramente quello che abbiamo chiamato il muro del pianto, una lunga serie di palazzi che uno dietro l'altro sono stati abbandonati in Corso Fogazzaro. L'ex Banca d'Italia, l'ex Camera di Commercio, l'ex Cinema Corso e non solo, sono usciti i servizi comunali, l'Agenzia delle Entrate. Tutto quello che prima si veniva a fare in centro e quindi nel momento di pausa poi si andava anche per negozi o per le vie, adesso non c'è più. Risultato? I commercianti hanno avuto un tracollo mostruoso. Noi abbiamo subito un crollo almeno del 60%, ma almeno, forse anche di più. I commercianti lanciano l'allarme, hanno bisogno di ridare l'infa al centro storico, chiedono una nuova gestione della ZTL, proposta che rilanciamo anche noi di Rete Veneta. Serve una zona a traffico limitato a fasce orarie, con i semafori di sera chiusa per dar modo ai locali di riempire le piazze, di giorno aperta per dare ossigeno ai negozi. Bisognerebbe correre un po' i ripari, perché è un negozio che chiude e difficilmente si riapre. Abbiamo dei costi, abbiamo gli affitti da pagare, abbiamo il personale da pagare, abbiamo spese molto grosse, per cui se il centro storico rimane in queste condizioni ci saranno tantissime chiusure. L'appello ai candidati, poche parole e tanti fatti. Messaggi chiari, i commercianti di Corso Fogazzaro, a cui noi di Rete Veneta continuiamo a dare voce, incontrano il candidato del centrodestra, Francesco Rucco. Eccolo che arriva, entrano tutti nel giardinetto interno di un locale, li seguiamo, parlano, si confrontano, provano a trovare una soluzione, poi escono con un accordo. C'è chi, dei nostri concorrenti, cerca di allargare la zona ZTL. Noi riteniamo che vada utilizzata per tutelare il centro, ovviamente anche dal flusso delle auto, però allo stesso tempo dobbiamo tenere conto anche delle esigenze del commercio che sta soffrendo in centro come non mai. Quindi va rivitalizzato il centro, va data possibilità ai commercianti di avere un flusso di gente che possa finalmente arrivare in città e fare i suoi acquisti senza dover ricorrere ai centri commerciali. Quindi da questo punto di vista molti commercianti ci hanno chiesto di rivedere le politiche della ZTL in centro e noi siamo disponibili a farlo.